ognuno paga le vene con quello che si trova il servizio catering non arriva oggi? il servizio catering non arriva ma la macchina c'era? non ce l'ha volto io, non ce l'hai dito eccola lì, c'è una viaggiatoria, porta panini quella porta panini, sì, c'è stata la speranza di quello lì portare i panini, la voglio morire di fame tempo fa c'era un signore che scendeva il pane e i pesci un panino ha chiesto portatella pure, non c'è qualcosa siamo pronti? pronti? 3,2,1 via con calma e intelligenza calma ed intelligenza la difficoltà sta lì calma c'è la tipica del posto non c'è stata un po' da provocire come è fatto? guarda qui gli ho dato tutte le contogliano guarda, come è fatto? no, non lo dobbiamo dire, non diciamo più queste cose perché ogni volta è una pugnalata nel cuore sono nove minuti a macchina per farlo tutto eh vai veloci che abbia solo eh, ha voglia eh se poi la fanno come l'ha fatto il range lì anche due minuti basta i lecolti sono fuori di passi dai vitture? posso stare? vitture? qui si guarda vitture? vitture? valetto e una due due fai così vai, vai, fatti la bianca vai, 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 cazzo fai la bianca, dove sta andando? sbaglia la porta 18 ce ne hanno, però sono due macchine non devi tagliare, sbaglia la porta, l'ha capito forse la retromarcia è penalità? si usano il regolamento del trial è mancato una porta non le deve fare tutte le porte chi ne deve fare? devi scegliere, giusto? bravi ragazzi abbassati forse la cosa migliore è star lì perché quella è una porta, la vedi? bravi ragazzi bravi ragazzi bravi ragazzi bravi ragazzi bravi ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti